Musica Let's go bitches Da quanto tempo è che non mi sentite e non mi vedete? E beh in questo caso non mi state vedendo State guardando un gameplay di Clam vs Clam, la solita schifezza mondiale che tutti conoscete Allora parliamo un pochino di Cosa è successo in questo più di un mese di assenza? Allora per prima cosa Perché c'è stato quello stop nei video improvviso E vi ho sempre parlato di progetti che doveva attuare Delle novità interessanti, importanti e bene Per prima cosa io avrei dovuto cambiare partnership di Youtube Cambiando partnership avrei dovuto Allo stesso tempo chiudere il mio canale E aprirlo sotto una nuova Diciamo questa nuova etichetta, questo nuovo partnership Non vi voglio dire chi è Non vi voglio dire il perché Cioè il perché ve lo spiego Non vi voglio dire chi è Comunque per questioni comunque di privacy alla fine Allora, bene Io avrei dovuto chiudere il mio canale Perché io sono bloccato con Mascinima Che tra l'altro non mi sta dando una mano a crescere Tutta questa quantità comunque di utenti Che ho fatto fino ad ora Me la sono costruita praticamente da solo Specialmente da settembre Fino a quello che è stato gennaio-febbraio Mi sono fatto più o meno 5-6 mesi comunque Riuscendo a uscire in quello che è il panorama di Youtube Perché come vi ho sempre detto è un mondo saturo È impossibile riuscire a uscire fuori anche con cose di qualità Ho avuto la fortuna comunque di essere appoggiato da persone Che senza avere niente in cambio erano interessate a quello che facevo E quindi mi hanno dato molto una mano Di questo comunque è Ron, gli Inside Code, Karma Tutti i ragazzi comunque della Knockout Community Savi Ultras eccetera eccetera Allo stesso modo anche quelli che fanno parte Nella partnership di Megatube Cioè il vostro caro Dexter Io Videogiochi Sarebbe già il peggiore Non so se lo conoscete eccetera eccetera Mi hanno anche loro dato una mano Fatto stacchi avrei dovuto cambiare sotto questa etichetta Ma non l'ho fatto per vari motivi Per prima cosa Forse è un discorso Per prima cosa che i tempi sono diventati troppo lunghi E quindi ho cominciato a fidarmi sempre di meno I contatti sono diventati sempre di meno Con questa partnership con cui dovevo entrare E quindi ho finito per andare avanti Andare avanti Senza mai riuscire a compiere questo passaggio Creare il nuovo canale E partire con quello che era il nuovo format di video Che avevo in mente di fare Il fatto che questa cosa è diventata così lenta Così macchinosa E non si è fatto più niente Anzi ci sono volute più di qualche settimana Mi ha un po' scoraggiato Perché c'erano grandi premesse C'erano grandi premesse Che il mio progetto era molto ambizioso Sì io sono così Quando mi butto in qualcosa sono ambizioso Ma ovviamente io punto a quello che voglio fare Non è che mi pongo degli obiettivi meno Mi pongo l'obiettivo a cui voglio arrivare E le promesse che mi venivano fatte E le promesse che mi venivano fatte erano promesse molto grandi Che però mi sono ritrovato a ripensarci Quando ho dovuto aspettare tutto quel tempo Ho anche visto comunque chi faceva parte di questa partnership E io non so che cosa gli era stato promesso E che tipo di aiuto gli è stato dato Ma il riscontro comunque degli iscritti e views che ricevevano Non era così alto come quello che mi era stato promesso Di questo progetto che doveva inizialmente durare un anno Quindi mi sono successe poi varie cose comunque private Di cui non voglio parlarvi Non sono questioni comunque di salute mie O eccetera eccetera Come avete tutti pensato O comunque non sono sempre cose che riguardano per forza lo studio Sì ci sono anche state comunque la sessione estiva di esami Che sinceramente è andata molto bene Perché tra l'altro in questo periodo ho litigato anche con i professori Con alcuni degli alunni lì Perché vado in un'università privata E ci sono molti pariolini come li chiamano qui Persone di Roma Nord, parioli Persone con la puzza sotto il naso Con cui io non ce la faccio dopo un po' e sbrocco Stessa cosa con i professori Perché essendo un'università privata Le cose funzionano un po' diversamente Non è molto meritocratica Ho avuto le mie fortune Rifacendomi comunque agli esami regionali Per ricevere l'attestato Per poter iniziare a lavorare Che si prende al secondo anno E quindi ora sono abbastanza felice Di essermi preso a questa vendetta Vedere persone che prendevano 30, 30 all'ode E vedere che all'esame non superavano il 25 Comunque non voglio parlarvi di questo Ho avuto dei problemi privati Con la testa non riuscivo a fare video Non ero in grado proprio di mettermi là Sono successe troppe cose assieme Sia queste cose con l'università Sia queste cose mie private Sia queste cose di Youtube Che mi ha un po' bloccato Perché avrei voluto partire a bomba Con questo nuovo progetto Sotto questa nuova partnership Ma niente si è realizzato Allo stesso modo non sono qua per mentirvi O per dirvi cosa Sono in contatto già con un'altra partnership Al momento Quello che vogliamo fare Sempre che era un nuovo canale Perché non è possibile passare con questo canale E questo nuovo canale Avrà sicuramente un suo format Un suo modo comunque di fare video Eccetera eccetera Che sarà molto più di qualità Rispetto a quello che avete visto In questo anno e mezzo Che mi seguite comunque E oltre a questo Beh Come cosa vi posso dire Riguardante God E riguardante Personal Gamer Sinceramente mi scuso in prima cosa Con Personal Gamer Perché non sono riuscito a mantenere Gli accordi presi con loro Devo fare dei video per loro Non ci sono riuscito Per motivi sempre privati Non sono potuto andare a fare il caster Sempre per motivi privati Perché avevo un esame Il giorno lunedì Tra l'altro Quindi ho dovuto rinunciare Mi sento molto in colpa Perché ho sempre detto Che odio le persone Che dicono dicono E poi non fanno E mi sono ora trovato In questa situazione Di avere mille cose Per la testa Non riuscire a fare niente A essere bloccato A ritrovarmi congelato In questa situazione E quindi mi sono ritrovato Un pochino spaisato Non so come posso dirvi Cioè Non riuscivo A portare a termine Gli accordi presi Quindi mi dispiace molto E chiedo quindi In primis Scusa a Personal Gamer Stessa cosa Lo chiedo comunque A i ragazzi Di Knockout Community Per la mia assenza Comunque E stessa cosa A tutti quei ragazzi Con cui avrei dovuto fare Dei video O comunque Dei progetti assieme Come per esempio Creed InsideCode Eccetera Eccetera Allo stesso modo La stessa cosa Che è capitata Con gli NXG Sono entrato a far parte Degli NXG Come staff E Avrei dovuto aiutarli In questo caso Mi era stato chiesto Anche di aiutarli Con la LAN Di Personal Gamer A Milano E non ho potuto farlo Sempre per lo stesso motivo Quindi avrei dovuto Giocare con loro Allo stesso modo Io Volevo Non lo so Ho cercato di propormi Di fare Anche se avevo questi problemi Ma Come ho cercato di propormi Ho cercato di fare qualcosa Dicevo Si facciamo questo Facciamo questo Mi ritrovavo dopo A non riuscire a farla Perché Non riuscivo a pensare ad altro Ero praticamente Bloccato In questa che è la mia situazione Ma non sono qui Per ammorbarvi Sempre a ripetervi La stessa lagna Per quanto riguarda COD È da un mese Che non gioco Il gameplay che vedete È abbastanza genuino Ho fatto pochissime partite In questi ultimi giorni Comunque Perché Non c'è molta gente Eppure estate Comunque C'è il mare Io abito sul mare Quindi E La gente va in vacanza Parte Eccetera eccetera Il gioco mi sembra Assolutamente Peggiorato Su One La lag compensation È una cosa schifosa Per chi chiedesse Cosa è la lag compensation Sarebbe La compensazione Che fa il gioco Per attenuare La differenza di connessioni Perché se uno gioca con la fibra E tu giochi con la 2 mega Dovresti essere stuprato Ma non è così È veramente Orrenda È ingiocabile Io non so come fate a dire Che questo gioco è meglio Di Black Ops 2 In confronto a Black Ops 2 Andava benissimo Clan vs clan È ingiocabile Come potete vedere qui Succedono delle cose Fuori di testa Cioè io sparo I miei colpi non arrivano E mi ritrovo morto Come vedete Quando guardo le killcam Quindi mi trovo abbastanza deluso Perché non c'è niente Di promettente Allo stesso modo Il gioco sta finendo Ci sono diverse indiscrezioni E rumors Che dicono tra l'altro Che il prossimo COD Si sarà giocato Sempre su One Ma che fra Il prossimo Black Ops 3 Ci sarà il passaggio Su PlayStation 4 Vi sono molte indiscrezioni Sul fatto che COD Possa essere rimosso Dal circuito MLG Per far entrare Quello che sarà Halo Attraverso la Master Chief Collection E Destiny Sinceramente È una cosa che mi piace molto Perché sono sempre stato Un fan comunque Del Diciamo del matchmaking Del modo in cui La Bungie In questo caso La 343 Per la Master Chief Collection Hanno lavorato Per creare il sistema Diciamo online Mi è sempre piaciuto La ladder Basata sulla skill Che quindi In base alle vincite E perdite Sale e si abbassa il grado Tutto il fatto Che c'è sempre Stata una playlist competitiva E così via Destiny è un gioco Secondo me Molto promettente Spero non faccia La fine di Titanfall Dove gli sviluppatori Hanno fatto grandi promesse Grande cose E poi non hanno fatto niente Praticamente per il gioco Dicendo che Preferivano farlo Per Titanfall 2 Che sarà cross platform Quindi anche per la PlayStation 4 PS3 Blablabla E tutte le altre console Quindi Siamo verso la fine del video Sinceramente non posso dirvi Cosa farò In questi giorni Sicuramente cercherò Di fare qualche video La skill Come vedete Non mi pare Di averla persa Cioè O sono io Che non ho perso la skill O è la gente Che è diventata più scarsa Con l'estate Fatto sta che Non lo so Quali saranno i piani futuri Sinceramente Vorrei far partire Questo nuovo format Di questo nuovo canale Quindi Piano piano Facendo passare l'utenza Magari E avendo il supporto Comunque Di una partnership Che mi supporti Mi lanci avanti In quello che è Comunque il mondo Di youtube Perché è l'unico modo Al momento Per farsi vedere Vincendo tornei Ormai non si ottiene Più niente E al momento Di tornei Non ce ne sono nemmeno Estate ragazzi A settembre Non si sa nemmeno Cosa succederà Come sappiamo La comunità italiana Fa sempre un passo avanti E due indietro Ogni volta che Sta per uscire Un nuovo code Quindi non mi fido Più di niente Allo stesso modo Cercherò Di lavorare Magari a nuove serie Spero Che ci sia Qualche gioco Magari interessante Perché il code Secondo me Ha abbastanza stufato E lo si nota In quelle che sono Le videos di tutti i canali Perfino quelli esteri Ma Ha stufato Questo code Perché Se andate a vedere Il periodo estivo Diciamo Dello scorso anno Non era così Io spero di non avervi Annoiato ragazzi Spero che siate felici Che sono tornato Bitches Vedrò cosa fare Nei prossimi giorni di video Ovviamente riguardanti i code Ma se riuscirò Magari anche di qualche Altro gioco Competitivo O non Che sia sempre interessante Da vedere Quindi vi saluto Bitches Al prossimo video